Salve a tutti e benvenuti in questo secondo episodio del mio Let's Play Walkthrough Gameplay, chiamatelo come volete, su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Lo sto giocando dal Game Pass, perché è inserito al The One in Game Pass, e ad ora dobbiamo fare il secondo episodio, o meglio, letteralmente il secondo livello, che qui vengono chiamati episodi. Se avete perso il primo episodio vi consiglio di recuperarlo, lo trovate anche quello su questo canale. E ho visto che possiamo anche cambiare personaggio, quindi l'idea è di cambiare un po' personaggio e andare con un'altra tartaruga, oppure addirittura con April. Andiamo con Donatello, voglio la portata ora. Vai, proseguiamo. E andiamo a fare il secondo livello. Eccoci qua, avevo già registrato sia il secondo che il terzo, ma il video era venuto un po' male, quindi li rifaccio. Eccoci qua, episodio 2, Grande Mela, ore 15, luogo, strade di New York. Eccoli che salva. Attenzione, lui è Rocksteady, giusto? Che ha rubato qualcosa e se ne va. Ed eccoci con Donatello. Come notate è un pochettino più lento, però ha molto più range. Uh, bella questa. Posso salire qui sopra e distruggere qualcosa? No. Go, go, sì, sì, vado. Just a minute. Eccoci qua. Ma posso caricarlo quanto voglio? No, ok, carico già al massimo. Inutile prendere questa pizza, però divento invincibile. Divento tipo, boh, Gesù. Incredibile, impossibile da distruggere. Oh, guarda questo che... Senti qui. Con questi direi di distruggerli con la special. Oh, voleva. Si ha fatto una combo di 62 punti, comunque. 62 colpi. Ah, quello potevo usarlo per... Accidenti. Attenzione a questo che spara. No, dobbiamo cadere nel tombino. Facciamoci cadere loro, magari. Oh. Spostati. No. Mi ha interrotto la combo. Mi ha interrotto la combo, quell'infame. Oh, guarda lì. Mi hanno portato via una ruota. Aia. Qui? Non c'è dentro nulla, ok. Oppa. E qui dentro? Non c'è nessuno lì? O forse c'era un tizio che abbiamo salvato nello scorso... Cioè, quando ho registrato il video. La prima volta si fa vedere, poi basta. Questi devo imparare ad evitarli meglio. Perché mi hanno distrutto la combo più volte. Ok, qui posso fare così e... Addio. Ok, uno è saltato. Ah! Ma adesso mi prendo? Ok. Vai. Ricarichiamoci. È già al massimo il lustro, sì. Eccovi lì. Ehi, voleva. Ma dai! Che colpo che mi ha dato un pugno così proprio in faccia. Datemi la pizza, va. Oh, qui c'è un'auto. Quanto ti sta bene. Qui c'era un collezionabile, mi sembra. E mo' Disintegrati tutti. Via. Ah, avrei di usarla qui la special. Mannaggia. Ok. Ricarichiamoci. Ecco fatto. Oh, oh. Mannaggia la moto. Vabbè. C'ha pure impennato per colpirmi sto stronzo. E se vi è c'è? Pure io sono un po' un abbo, eh. Vabbè. Cioè, colpitemi un'altra volta, per favore. Me lo merito. Ok. Questo parte. Uccide i nemici. Qua devo stare attento che questo... Cazzatissimo, eh, con l'ascia. Oh, che male. Ok. Ma do' che botta. Guarda, appena arrivano, mo' disintegro tutti. Oh, bella lì. Ma questo? Ma ha portato via il motore dell'auto? Bello il range, comunque, di Donatello, eh. Bello, bello. E qua posso far così. Scoppiate tutti. Ok. Datemi la pizza. Siamo arrivati addirittura d'arrivo? Sto infame che mi colpisce. Guarda. Addio a tutti. Oh, le. Datemi la pizza. Uh. Ho potenza infinita. Quindi posso usare le special quanto voglio. O sì. Aha. Via. Dai. Fatto che tu possa schivare solo. In avanti o indietro. Ma non, appunto, a destra. Ma non su e giù. È un po' scomodo, eh. Io avrei potuto usare anche questo. Eccoci qui. Boss fight? Sì. E non abbiamo molta vita, eh. Vediamo se riusciamo a farlo. Eccolo. Rock Steady. Rinoceronte. Roboante. No, un po' già ti meno. Ah. Usa le mine? No. Ho mancato. Ma se mi mettesse qui dietro, tipo? Ah. Aia. Eccolo. Tira bombe. Con il quale colpisce i suoi stessi alleati. E via. Aia. Volevo andare dietro. Ok. Entri qui. Aia. Che botta. E dai. Va bene. Via. Nooo. Dai, sto per morire. Che palle morire contro questo. No, ti usa la special in faccia. Poi l'altro patch, eh. Te ne uso un'altra di special. Ma quando arrivi qui. Esatto. Aia. Un minuto. Aia. Che botta. Niente, mi ho ucciso. Fatti colpire mentre schernisci i nemici. Ah, c'era pure un obiettivo in questa cosa. Ah, c'era pure un obiettivo in questa cosa. Eccolo. Potremmo evitare questi colpi. Ok. Eccolo che spara di nuovo. Noi ci mettiamo qui. E lo colpiamo di brutto. Crepa. Rocksteady. Peccato che abbiamo perso una vita. Ma che bello che salta come fosse un pogo. Ok, Kawabonga. Eccoli che se ne vanno. Rocksteady e l'altro, come si chiamava, Bebop, giusto? Che abbiamo sconfitto nel primo episodio. E abbiamo completato quindi anche l'episodio 2, Grande Mela. Nel prossimo video affronteremo l'episodio 3, Mutanti a Broadway. Quindi, per questo video è tutto. Io vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glaciospear è tutto. Al prossimo video.